bella ragazzi io sono canos e sì ho preso la ps4 preso anche destiny ho prenotato o preordinato rise of iron e niente spero di tornare più attivo sul canale con l'uscita del dlc perché come sapete adesso su destiny non c'è molto da fare e niente giochi che prenderò sicuramente battlefield 1 mi interessa tantissimo perché se qualcuno è scritto fin dall'inizio sa che sono cresciuto con battlefield e quindi questa serie mi interessa tantissimo e niente altri giochi che mi interessavano guardando le tre final fantasy forse anche se non ci ho mai giocato seriamente però guardando le tre mi ha interessato tantissimo mi incuriosisce tanto e un altro gioco che mi incuriosisce sempre avendo visto le tre days gone esce nel 2017 e direi che lo proverò sicuramente e niente avete qualche free to play da consigliarmi carino che sapete che è bello perché non voglio scaricare cose a caso e puoi doverle disinstallare quindi se avete qualche consiglio è sempre ben accetto vi lascio al primo su uno dei primi gameplay fatti sulla 4 su destiny e purtroppo il microfono di derin non si sente quindi a volte sembra che parliamo da soli ma in realtà parliamo con lei però non si sente non so perché vi lascio il play bella ciao e mettiti davanti con quello one shot l'ho lasciato io one shot ma l'ho fatto non lo prendiamo no 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 c'è gente c'è gente aiuto sono morto non ti preoccupare c'è il tuo angelo quest'altro oh c'è un altro aiutami canos sei inutile dai potete animarmi a cazzo il 2 1 0 ah mazza nessuno si ha visto per il manco mazza c'è ahiaiaiaia mi stava stonfilla oh chi? sono morto sono morto eh si sono morto eh qua è questo oddio destra 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 oh ma smettete di animarmi a me mezza 5.000 persone no sta accusando no figlio della merda siamo si stupidi io ero occupato a vedere il telefono a vedere quanti spettatori abbiamo zero zero ancora zero ma ne mancano visto il posto cioè anche con gli altri clan non ti cagano oh cosi di spettatori che stai guardando la live dei deri venite da me per favore oh io ho questo ma qualità migliore senza lag certino basso 21-20 qualità elevata ti dico c'è disabilitatela ma ma che forno ma no niente mo c'è uno spettatore che sto giocando a schifo te prego eh vattene c'è uno spettatore c'è l'ansia oddio vaffanculo faccio schifo è one shot è one shot è one shot è one shot è meglio fare la matarco per uccidermi uno tante mo volatu mammata grazie che mi restate grazie che mi restate guarda come disattiva la cosa guarda la guarda la guarda disattivata ottimo lavoro cioè non mi piace ah iai ai 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 io prendo tutte le special ma colo la grafica della quattro avessi diventato invisibile, ho sentito, ho sentito, ho sentito, ho diventato invisibile hai visto i video di Gatto che sei incazzato con The Tower? Sì, ho fatto bene, scusa eh sì, ma io sono d'accordo con quello che ha detto tanto che c'è una maglia e ne chi lo seguivano, in corretto eh, hai sentito che ho detto, se andavo all'assimo di seguida ma perché sono tutti i BM, allora devo fare bordello ma è preordinato Rise of Fire, non Alessio? Sì e The Ring? eh? ah The Ring eh, fallo eh se becchi becchi alla ti becchi 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 vada vuol cosa io a Martello a un onore oddio sto morendo, mi che cazzo no non stare lì, non stare lì no, no ma che cazzo una cosa del martello è tutto registrato e tutto in live vabbè non c'è nessuno disattivo io son dentro munizioni pesanti grade alessio mamma mia nooo io sono un momento in quanto un po' esiste ancora il faro ps3 del 16 agosto da come ha fatto il cinema questo io no ma planet 6 2 qualcuno se l'ha cagato sono 4 planet 6 2 no va schifo schifo a me non mi piace per niente a parte che ho in inglese no non è in inglese però non c'è accoglione niente non c'è troppo grande non mi piace c'è già basta e ci dovrà un po' enorme ma non c'è che su pc almeno qui cosa ogni server teneva 3.000 giocatori su pc poi sulla play non so se guarda il pc ah non lo so comunque io sono sempre tantissimi ma per quello mi interessava ciao show dai show perché vieni da me show non lato alta qualità no roba sto morire sto morire sto morire per la qualità bassa e per il tuo male modo vero un po' un po' un po' un po' un po' un po' scegliete voi 5 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 6 8 5 9 10 10 10 10 Non riesco a capire Dai c'è un bomba nuova C'è un cecchino Ma perché non muore mai questo col pompa? Seconda volta Jacopo Cardello, onore alla pastorizia Ma l'ha attaccata il figlio di... Grande Jacopo Vedi qualcuno è intelligente qui Cosa stai vitto? Onore alla pastorizia Vedi lui Ah, il tuo clan Ma quant'è che sei in quel clan? Cosa giocate? Boh da un po' Perché Tipo stavo Stavo sulla tollo Ma non fa niente Era tipo venerdì sera Mi invitano dei tizi Io ho un problema Che quel tizio che mi invitavo Lo conoscevo perché Sul gruppo di Facebook Tutti che dicono che fa schifo Che è inutile Insomma C'è il nome suo Se crea subito un play Ma E allora ho detto Va bene Vediamo con me Poi me ci sono trovato bene Me ci sono divertito A sto punto poi Sono entrato nel clan Perché stavano su un po' Dici tutti E continuo E raidate? Adesso no Perché è inutile Raidare Adesso Ho detto bene Perché c'è un po' Il federalismanismo Che cosa fa Guarda Noi ci sei E se ne ho söyle E se ne ho dare Tro wartime Alcune gitwan tanto 7 e alessio 1 iacomo cardelle allora tolto il posto a voi fa ma fatto quello di noi no come spettatore di berin e venuti no no vieni da me alessi in hd se io tolto l'idea levata ma quella bassa dei berin tutta pizze il pizze luto uno va scritto io ho fatto schifo oh sono arrivato prima beh oh do due spettatori mamma mia mi si è assalata è venuto da me passo al lato il figolo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti